Non dobbiamo mai dimenticare che le giovani generazioni hanno il diritto a ricevere da noi un'unica numero che è simile e che questo non ci investe di gravità bene nei confronti del creato. Abbiamo dicevuto un'altra parte di questo è bene, grazie per questo contributo. Lo sto scrivendo, non mi piace, 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 non mi piace. Non dobbiamo mai dimenticare che le giovani generazioni hanno il diritto a ricevere da noi un mondo migliore e che questo ci investe di gravità bene nel creato che abbiamo ricevuto dalle mani generose di Dio. Grazie per questo contributo. Grazie per questo contributo. Grazie per questo contributo. Lo sto scrivendo Questo salimento è una serie di problemi attuali, di problemi attuali, di problemi attuali. Le giovani generazioni hanno il diritto a ricevere da noi i nostri figli e che questo ci investe a vivere nei confronti del creato che abbiamo ricevuto dalle mani generose di... Grazie per questo contributo. Questo salimento è una serie di problemi attuali, di problemi attuali, di problemi attuali, di problemi attuali. Grazie.